Forti sono i legami tra nutrizione, tumori e salute del pianeta Terra. Ecco perché è importante avere cura della pulizia delle strade. È stato presentato nella sala giunta di Palazzo di Città Bari il progetto Manteniamo Pulite le Città, l'iniziativa che vedrà malati oncologici, professionisti della salute e volontari scendere in piazza per ripulire alcune zone dell'area metropolitana barese e in particolare nei pressi dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II e nel territorio del Comune di Andria. La situazione non è così drammatica, però non c'è ancora il senso civico. Questo è un problema molto importante, quindi l'amministrazione, il Comune di Bari so che da una vita fa campagne, ma anche l'AMIU, campagne di sensibilizzazione, però non c'è ancora un'attenzione d'eccellenza rispetto alle città del Nord Europa. Anche ad Andria c'è lo stesso problema, quindi interverremo anche su Andria dove verremo a incontrare il sindaco, la sindaca, l'avvocatessa in modo da sensibilizzare anche nel territorio questi aspetti che poi sono il futuro dei nostri bambini. Il progetto, organizzato dal comitato consultivo misto dell'Istituto Tumori di Bari in collaborazione con la direzione generale dello stesso istituto e la pubblica assistenza SER Bari, si pone l'obiettivo di ribadire l'importanza di un ambiente sano per la salute di tutti, poiché spesso i tumori sono provocati dai nostri comportamenti errati. La prevenzione parte innanzitutto da buone abitudini, da sani comportamenti, dal rispetto dell'ambiente. Proprio per questo siamo vicini alle associazioni e con loro porteremo avanti una serie di iniziative in primis quella che presentiamo oggi, ma anche degli interventi di sensibilizzazione nelle scuole sui corretti stili di vita. Noi stiamo avendo un problema delle microplastiche nel mare che sta generando una situazione gravissima sul piano proprio dei prodotti ittici. Ormai il pesce che viene pescato, fortunatamente a Bari abbiamo una falda ampissima, quindi si riesce a prendere il pesce in profondità a cui non arrivano ancora le microplastiche, ma abbiamo un problema sui prodotti ittici a livello sistemico mondiale, non soltanto pugliese, che va affrontato e va risolto. Quindi il problema ambientale è ormai un problema che va visto e va visto a 360 gradi. Ci siamo resi conto che può succedere, può accadere, può verificarsi una guerra in Europa e che l'Italia e la Puglia ancora di più sono dei pezzi di un sistema molto più ampio. Sull'ambiente è ancora più importante entrare e acquisire questa consapevolezza. Se continuiamo a ragionare solo con la logica del quartiere, direi che non ci saranno mai esempi che potranno portarci a diversi comportamenti.